Oggi è il 21 gennaio e mi è arrivata la mail di riai.com, che la mia tenda dagli Stati Uniti è stata spedita. La mail dice che arriverà il 5 febbraio, quindi adesso facciamo un viaggio nel futuro! Oggi è il 25 febbraio e con dieci giorni di anticipo la tenda è arrivata. Facciamo due conti. La tenda l'ho pagata 175 dollari, che con il cambio dovrebbe essere attorno ai 140 euro. Il problema è stato... adesso vi faccio vedere qual è il problema. Il problema è stato questo, bollino maledetto, che mi ha fatto aggiungere altri 75 euro di oneri doganali. Quindi in totale ho speso 210 euro per questa tenda. Contando il fatto che la tenda originariamente costa 350 dollari, in ogni caso il risparmio c'è stato. La tenda è una Big Agnes Fly Creek HVUL1. È una tenda da un posto e è una figata. Apriamo la scatola. Eccola. La mia tenda. Andiamo ad aprire questa bellissima tenda, vediamo che cosa c'è dentro questa tenda. Ulala. Siamo con la nostra tenda. Ora scopriremo che cosa c'è all'interno di questa sacchetta. Istruzioni. Questo prodotto contiene prodotti chimici che lo stato della California ritiene causare il tumore. Ok. Tutte le istruzioni e ti dice il peso della tenda. 765 grammi. Wow. È super... È super leggero questo materiale. Assurdo. Questi sono elastici, sono veramente super leggeri. e hanno una bellissima intersezione a T qui, che è caratteristica di questo modello di tenda. Questo è il giunto di cui parlavo. Passiamo ai picchetti. Anche il sacchettino è super leggero. I picchettini non pesano niente. La retina è molto bella. Questo è il modello su... Wow. Non ho mai toccato qualcosa di così vellutato. È strenissimo. Questo canale è ufficialmente diventato un canale ASMR. Siete pronti a sentire i suoni della tenda. Oh questo è la testa. Questa è andata. L Scriptures' è accolta qui ci facciamo. È molto be摩 14 anni, sempre fissate i suoni di oro. Questa è un modello di potente. Iscriviamo alle, so come la testa è un modello diعد�ame. Ci sono solo dei incendi. A presto Bene, direi che per questo episodio di tende e unboxing con The Walking Nose abbiamo detto tutto d'ora in poi farò soltanto video ASMR perché sono questi che la gente vuole la gente vuole ascoltare video ASMR per tutto il giorno ci vediamo alla prossima puntata ciao grazie grazie